Il 18 gennaio 2014 l'inaugurazione. Sono bastate poche settimane e già piove dentro la nuovissima scuola media Bella Vitis 2.0 di Bassano. Un edificio ultramoderno, non solo per la struttura ma anche per gli accorgimenti adottati nella sua realizzazione, costato alle casse comunali 4 milioni 800 mila euro con un contributo regionale di un milione di euro. Una costruzione importante per il servizio offerto alla città che però, a pochi giorni dal taglio del nastro, presenterebbe già importanti lacune. Acqua in alcune aule e in palestra a cui pare sia stato addirittura necessario posizionare dei secchi per raccoglierla. È quanto ci hanno segnalato nel fine settimana i genitori di alcuni ragazzini che frequentano la nuovissima struttura, che ci hanno telefonato tenendo un tono tra l'arrabbiato, perché non è possibile che una costruzione così costosa presenti già falle, e il preoccupato per la sicurezza dei propri figli. È vero che la pioggia nelle ultime settimane è scesa copiosa, ma secondo i nostri telespettatori non è possibile che venga interessato un edificio di ultimissima generazione. Noi ci siamo stati e abbiamo incrociato il preside Francesco Mistretta, che ha confermato le infiltrazioni di pioggia nella sua scuola. Ma sentite come le ha giustificate. È normale, perché in tutte le scuole nuove mi raccontano che c'è sempre qualche cosina da mettere a posto. Beh, di normale c'è ben poco. È ben poco normale che in una scuola costata a fiorfior di soldi dei cittadini si presentino infiltrazioni a pochi giorni dell'inaugurazione. Ed è invece normale la rabbia di quegli stessi cittadini che hanno pagato per un'opera che, usando un gioco di parole, appena costruita fa già acqua.